Trasgressivo, innovativo, precursore, trasformista, amato e fonte di ispirazione per chi voleva e vuole percorrere i sentieri della musica. Una festa per Ziggy, il Duca Bianco, si intitola così le due giorni di proiezioni cinematografiche che il Teatro Miel ha organizzato a partire da oggi in occasione del primo anniversario della scomparsa di David Bowie, avvenuta a New York il 10 gennaio 2016 e del suo settantesimo compleanno. L'evento vuole essere un omaggio alla massima icona della cultura contemporanea, in due serate con la sua musica, la proiezione dei film più importanti che lo vedono protagonista e alcuni documentari realizzati, altri restaurati in occasione della grande mostra David East che inaugurata a Londra nella primavera del 2013 al Victoria Albert Museum è stata poi presentata in giro nel mondo, in Italia al Mambo di Bologna. Duca Bianco, Ziggy Stardust, è difficile riassumere e definire la politricità della musica e della personalità di David Bowie, che per questa sua tendenza ad assumere personalità fittizia al criticismo musicale e artistico è stato soprannominato il Camaleonte.